Ciao a tutti ragazzi, sono Gabriel e di me, anche questo è quello perché oggi purtroppo oggi è giorno anche di Natale, buon Natale a tutti, a me buon Natale di fine vita al mio computer portatile vecchio perché è come se fosse morto, dovuto al fatto che il mio computer portatile si è rotto, perché semplicemente, semplicemente, semplicemente il mio computer portatile, non parte più, proprio, semplicemente si accende, ma non mi fa entrare, ma non mi fa entrare proprio, prova a fare tutto, ma niente, non mi fa entrare, poi mi fa niente, può possedere lo spazio, può possare tutte le cose, niente, l'ho perso, proprio tutta la vecchia da 2014, niente, l'ho perso, se fosse noto, può sapere il pugno o qualcosa, e quindi niente, e quindi, vabbè, ho perso il computer portatile a caso, quindi fine della storia, vabbè, esiste, vabbè, il cabello del clima, proprio per esistare così, non esiste il mio viso, proprio, adesso dovrei fare un altro nuovo, proprio, un altro nuovo, e a me, proprio, uso un altro nuovo, un altro come parte che c'è in casa, per il mio canto, per fare le mie cose, e basta, proprio, questa cosa, veramente, è brutta, proprio, proprio, non è bello, proprio, vabbè, cammino così, ma, vabbè, proprio, io spero che il computer portatile riesco a cambiare, proprio, al computer 1, e in più, ora, peraltro, anche l'idea di fare che la gente potesse disegnare le prestazioni originali mie, da vendere, e poi, di disegnare, se ho fatto un po' di ricordare, comunque, ragazzi, è tutto, ciao a tutti, buona giornata a tutti, e buone vacanze di Natale, con questo video corto, e ciao, ciao a tutti, ciao, ciao, buone vacanze di Natale, anzi, buone feste, via vigilia.